Benvenuti nel mondo di Giaquette Ross. Giaquette Ross è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 1738 da Pierre Giaquette Ross a Laschaudet Fons, in Svizzera. Con oltre 280 anni di storia, il marchio è noto per la sua tradizione di orologeria di altissima qualità e per la sua capacità di unire tradizione e innovazione. Giaquette Ross è stato uno dei principali protagonisti dell'orologeria meccanica ed è stato il creatore del primo automa al mondo. I famosi automi di Giaquette Ross, come il celebre The Writer e The Droughtsman, sono delle vere e proprie opere d'arte meccaniche, che dimostrano l'abilità e la maestria dei tecnici dell'epoca. Oggi, Giaquette Ross continua a produrre orologi di altissima qualità, caratterizzati da un design elegante e raffinato e da una grande attenzione ai dettagli. La collezione di orologi Giaquette Ross comprende modelli da uomo e da donna, realizzati con materiali di alta qualità come l'oro, l'argento e il platino. Il marchio svizzero offre una vasta scelta di orologi di lusso, ognuno con un design unico e inimitabile. Tra i modelli più recenti, spicca il Loving Butterfly Automaton, un orologio da polso che presenta un'automa a forma di farfalla che batte le ali in modo realistico. Ma la collezione di Giaquette Ross non si ferma qui. Uno dei modelli più iconici di Giaquette Ross è il Grand Second, un orologio da polso caratterizzato da un quadrante a due piani, con una piccola lancetta dei secondi che gira attorno a una grande lancetta dei minuti. Questo design è ispirato alle figure 8, simbolo di equilibrio e armonia, e conferisce all'orologio un aspetto unico e distintivo. Giaquette Ross è un marchio di orologi di lusso che rappresenta l'eccellenza dell'orologeria svizzera. La sua tradizione di altissima qualità e attenzione ai dettagli lo ha reso uno dei marchi più prestigiosi del settore dell'orologeria di lusso. La ricerca della perfezione e dell'innovazione è il cuore pulsante dell'azienda, che continua a sviluppare tecnologie all'avanguardia per migliorare la precisione e l'affidabilità dei suoi orologi di lusso. Se sei alla ricerca di un orologio di altissima qualità, con un design elegante e raffinato, Giaquette Ross è sicuramente una scelta da considerare. Grazie alla sua lunga tradizione di orologeria di altissima qualità, ai suoi modelli iconici e alla sua continua ricerca dell'innovazione tecnologica, Giaquette Ross è un marchio di orologi di lusso che non delude mai.